Sarà il big match dell'undicesima giornata della Serie C, Briciole 12-80. Le quattro vittorie consecutive hanno letteralmente cambiato il volto alla stagione delle rosso-blu di Bianchi. La zona salvezza è sempre più lontana, addirittura il terzo posto è distante una sola lunghezza. Un momento favorevole anche se la squadra sta pringendo i denti perché abbiamo assenze importanti. La partita è sicuramente una partita difficile perché loro sono un'ottima squadra. Il 12-80 è uno squadrone partito con l'obiettivo di vincere il campionato. Le ragazze di Righi però in campionato non giocano da tre settimane, causa riposo e rinvio contro il Vispondi. Di mezzo c'è stata la Coppa. Sicuramente la fase difensiva è un nostro punto di forza maggiore rispetto alla fase offensiva. Però comunque crediamo a molte azioni. È un campo comunque difficile, vengono da quattro vittorie consecutive. Sono anche il quarto in campionato solamente a un punto sotto a noi. Una gara importante che nessuno è disposto a perdere. La voglia di continuare a stupire superando i propri limiti è sempre più forte.